Il collega è abbastanza preparato, è dipendente, una cosa che viene subito in mente è che mentre le colpe dei padri mi cadono sicuramente sui figli, non sento la stessa cosa per i miei, quindi questa è una considerazione personale. Ringrazio l'Ordine Collegio per questa benissima iniziativa e anche il regista che ha portato in immagini veramente molto chiaramente con molto significato l'opera dell'uomo. Cosa dire ancora? Aneddoti ce ne sarebbero tanti come l'ipote di Giacomo Ingegneria perché nel 79 non erano ancora scritte in ingegneria. Quindi ecco, una cosa che posso dire come aneddoto è che il nonno mi traduceva le versioni di Latina di Greco senza più favore. Quindi, oltre all'ingegneria, nella sua vita mi ha sempre continuato a positivare la passione anche per le lettere e per le arti, quindi come ho dimostrato anche con scritto in ingegneria. Spero di poter essere, insieme agli altri familiari, utile per la ricerca, per il convegno e per la prima occasione. Grazie. Grazie molto.